...una tua dichiarazione molto dura contro l'ipotesi, l'ipotesi ovviamente, Draghi Presidente del Consiglio. Perché Presidente Consiglia? Come mai? Un vile, un vile affarista. Non si può nominare Presidente del Consiglio dei Ministri chi è stato sciolto della Goldman Sachs, grande banca d'affari americana. E male, molto male, io feccio ad appoggiarne quasi a imporne la candidatura a Silvio Berlusconi. Male, molto male. E' il liquidatore, dopo la famosa crociera sul Britannia, dell'industria pubblica, la sveglita dell'industria pubblica italiana, quando era direttore già del Tesoro. E immagina di che cosa farebbe la Presidente del Consiglio dei Ministri. Sveglerebbe quel che rimane. Finmeccanica, Lene Leni e certamente i suoi ex compagni di Goldman Sachs.